oh 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 ma che diavolo vieni 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 qua signorino bravo oh mio dio ma ma quanto spara veloce lo hanno reso davvero devastante occhio carri all'amico occhio carri all'amico oh mio dio non pensavo fosse così distruttivo e disarmante cildini tattici per noi dobbiamo stare molto molto attenti non abbiamo in realtà nessuno giacca sotto ho sentito un sound strano lo devo villare lo devo villare sicuramente si è nascosto il miserabile si evasa dove diavolo è andato comunque niente male sto nuovo fuciline ma dove diavolo salve salve signorina venga qui venga qui le racconto una bella seratina ok ok ho visto 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 ho 40 ok sto prendendo la macchina ora sto prendendo quel simpatiche oh bye bye signorina andiamo a vedere che diavolo troviamo all'interno di questa magica qua dentro ormai non so più il piccone ormai solo se che mitraglietta ma che diavolo vieni qua si 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 è impicciato il topolino di fogna oh mio dio ma quest'arma questo uscita due colpi è davvero diventato devastante generalmente utilizzavo sempre questo qui a percussore il fucile a pompa percussore e invece mi so proprio che mi tocca cambiare armetta sono andati a potenziare il fucile a pompa a due colpi e a potenziare l'altro fucile a pompa io generalmente comunque per dire la verità giocavo molto spesso con il fucile oh 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 lupacchione non lo vedi che ho questo nuovo fucile giocavo molto spesso con l'altro con il terzo fucile a pompa che ovviamente non troviamo che è devastante perché spara tantissimi colpi all'interno della modalità no build non è davvero niente male inoltre sono andati a depotenziare anche questa armetta qui il vampa fucile vediamo se è vero vediamo quanto l'anno depotenziata soprattutto ma tu guarda oh no 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 mi ha trovato pure lui ha fatto quel saltino matto eccolo no questo è un altro questo è un altro occhio che sono due uno ha saltato qua danti non penso che è una e sulla sinistra ma non interessa questo sulla destra che in realtà è sempre quello sulla sinistra sì 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 per forza per forza per forza è la nostra taglia dobbiamo andare a prendere subitissimo ma dove diavolo sta scappando sto miserabile ok trovato nel blind o mio dio lo stiamo distruggendo anche se non lo vediamo si sui lupacchioni sui lupacchioni andatemelo a prendere andatemelo a prendere anche bianco non mi dica emilia nostra sparando i lupi andiamo 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 guarda dove diavolo è andato per non farsi chillare forse mitraglietta forse mitraglietta sì 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 mi sa che è arrivato se con i conti e lupi cucciolino comunque il lupacchioni vediamo il pump se effetto ok si toglie abbastanza dovremmo trovare una rarità oppure dovremmo trasformare questo punto verde nel pump blu oppure viola se troviamo il l'oggetto per aprire le armi senza dubbio è molto più forte rispetto a come era prima spara il secondo colpo troppo troppo rapido però non lo ma che succede se con il cinghiale andiamo su no no cinghialino va bene tanto ci viene dietro mi stavo dicendo non so se lo preferisco agli altri bomba sicuramente a quello con il colpo singolo sicuro perché in effetti non lo stavo nemmeno più utilizzando però al ma che ha preso la zipline no al pump quello lì che spara colpi a raffica forse è meglio per il mio stile di gioco in quanto quando incontro qualcuno uno a uno cerco sempre di saltare di sopra e prendere la testa sparando con il pump quindi non so se è meglio questo o meglio l'altro fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti nel mentre io chillo questo miserabile di un lama e amici miei mi raccomando all'interno i negati oggetti inserite utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 e ti ho stanato finalmente maledetto gilberti de o senza problemi o combattimento con il fungo per lui ok abbiamo l'ho tutto lo sciso calma di calma di no 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 questo c'era prende ma invece scappa in safe un signor gilberti erano due ore che ti cercavo occhio perché dobbiamo dare in safe è abbastanza lontanino pump no ecco questo che era l'altro pump che vi dicevo ancora non abbiamo trovato un un oggetto per andare a gridare le nostre armi altrimenti già l'avevo resa quantomeno viola il fatto sento buzzo di spade laser qua davanti sento buzzo di spade laser e a noi la tempesta ci ha fatto malissimo vediamo se c'è sì 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 sparano sparano di gusto da sti vizi vediamo se c'è qualche funghino o mangia 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 sbrigati signorina che stanno a sparare con le spade laser vai ok dovrebbero essere qua sotto mega fight qua sotto con le spade ok lo vedo lo vedo lo vedo che la signor mancheico fermi 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 perché manno devastato ma come hanno fatto a sapere che io ero qui l'hanno saputo per forza in anticipo anche perché hanno iniziato a spararmi come se mi avessero sentito da prima occhio andiamo di qua e non ci scherza con loro è signor manche che stanno a 2.000 ok riprendiamo da questa distanza e la manche che manche eccolo sai calmo non è che hanno potenziato pure le spade laser non te lo faccio restare bello uguaglione esci fuori dai sì sì poi a prendere la sua scheda a campo aperto ma che delizia ma che plasir ma non mi dire che hanno anche lavoro non cina questi due vedo qualcosa di oro di mistico vediamo ok coroncina no coroncina not official perché solo armi di star wars stavano facendo forse la challenge quello che non hai a tre mi sembrano un po' esagerate occhio vediamo ok non c'è qualcuno che mi spara o via 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 alla mira pessima è dietro di noi facciamo finta di non vedere niente e nessuno meno male che non c'è il cecchino ok passiamo da tutt'altra parte se riusciamo io andrei anche sopra quel bel portatile vediamo se ci sta seguendo è se vanno a prendere la coroncina quei due a noi non ci interessa niente o porca o sotto 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 sì 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 questo non ci ha capito niente vuole entrare all'interno del nostro portatile eh si entra noi scappiamo via no 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 ma dove va aia aia ci ha rotto le culette via 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 siamo senza shield fermi signori situazione altro che delicata io no 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 mi sparano ora no non ho escape non ho escape aiuto non voglio morire aiuto ok via 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 oh porca la miseria ma lo scudo si è rigenerato sia almeno quello meno male che non ci prendono non so che stanno sparando da vicino hanno una mira allucinante si plegierini da lontano fanno pietà occhio devo trovare cure ok un'altra granata non ho capito ok un tizio quello che mi sparava era di qua sì sì va bene va bene gli cittini prendiamo o mi nascondo dietro sto palo voglio vedere no ci prendono sicuro dietro al palo vediamo dove diavolo è lo metto o 126 ok goloso 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 andiamo a finire si sta curando si sta curando il verniciatore di aula dato ok chiede dal masso 100 per cento ma che diavoli arma ma perché aveva il mirino laser quel tizio abbastanza strana come roba probabilmente bug occhio che ci dobbiamo rifare contro i due tizi che ci hanno mezzo di lato dove era il portatile armette desideri il gioco senza mitraglietta la proviamo hanno la coroncina quei due interessante e finalmente pump blu sul finale occhio è la mitraglietta questa la vorrei prendere ma meglio non portarsi dietro un po di cure ce ne andiamo ok svenia 0 2 92 sta facendo il devasto all'interno della lobby hanno villato tutti loro li dobbiamo stanare prima che ci stanino loro altrimenti si mette davvero molto molto male per noi qui dovrebbe essere pulita la situazione ok loro sono cento per cento qua davanti da qualche parte ma no è morta svevia cioè l'anno killata o si è fatta illare cioè è morta dalla tempesta siamo noi contro due ok ci prendiamo nei ground golo ok 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 beccati entrambi se ti beccavo le chiappette signorina sono all'interno dei container sembra un polletto si è un polletto official che vuole fare o mio dio quanto ci prende armi surreali per loro ok guardate la cecchini c'è quello uno skin che mi sembra uno scazzone e facciamo credere diciamo di là ok ok si si me plaza me plaza let's go let's go let's go lo skin era abbastanza scarso nuovo fucile 2 e signorina salve diavolo di amico aveva questo let's go mega win portata tom let's go mi raccomando all'interno del negozio oggetti inseriti utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 sco iscrivetevi al canale attivate la campagna della notizia troppo da un bel ecco pubblico se ancora non l'avete fatto ora vi lascio due video bomba mi raccomando andatevi a vedere fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro pump ora dopo che c'è stato l'aggiornamento preferito mi raccomando vi aspetto qua sotto nei commenti e noi ci vediamo all'interno di un nuovo video l'estra l'estra